Aspetta, ma sei a fuoco? Cazzo, non vedo un cazzo. Aspetta, mettiti normale. Così lascio che metta a fuoco. Ecco. Ora, dove sarai messo a fuoco qui? Speriamo? Vabbè. Sarai messo a fuoco? Non lo so, io non vedo. Neanche io. Mamma, non mi crede. Come lo ti crede? Non ci crede che non vedo. Davvero? Sì, perché da piccola la prendevo sempre per il culo. Ero fissata che volevo gli occhiali, no? E mi portava sempre dall'oculista. Diglielo, digli, guarda, portami a fare una visita. Ma tipo, mi ha portato 50 volte al cazzo oculista e ogni volta cazzo ci vedevo perfettamente e non avevo mai nessun problema. Da molto l'hai fatta l'ultima visita oculista. È buono, lo so. Ma so che fra l'altro non ci vedo più un cazzo, non mi credo. Sto registrando. Ah, perfetto. Mi vergogno. Anche io. Sto, in giro. Sì. Salve a te. Dai, non ti guardo. Vai, poi spunto dal nulla, come fa qualcuno. Svoss! È uscito un bel bel. Questo lo tagli, lo sai, sì. Dai. Sto piangere. No, non piangere, poverina. Dai. Aspetta. Non ti guarda. Ah, per te mi fa male il dente del giudizio. No, stai, stai. No, non mi fa sassare. Mi sembra che c'è un buon. Mi dura tipo 4-5 giorni. E poi mi sparisce per un mese, però quei 4-5 giorni sono infernali. Sembrano un eschimese. Ah, la, 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 la. Io non mi sono ancora resa quando mi sta registrando io. La, la, la. Va bene, basta. Dai, faccio una persona seria. Faccio finta di essere timida. Dai, amore, se no non incominciamo neanche nel 2020. Abbiamo 3 anni di tempo. Guarda, guarda. Stiamo parlando con noi. Dice, ma questo è coglione che si mettono a parlare verso. Ma ciao a tutti. Dice, ma che cazzo stai parlando che non c'è un cane. Va bene. Servi a tutti amici, ma che... No, perché ho fatto così come Chiara? Che cazzo di Chiara ha fatto? C'era la scritch. Non la conosco. Boh, ho saluto tipo così. Perché ho saluto così? Benvenuti su MBG. Io sono Silvia. Lei è Silvia. Io sono... Se non ho presa per il culo. Io sono Silvia, lei pure. E hai detto questo? Ciao. No, dai, basta. Facciamo le persone serie. Ok. Ce la posso fare. Salve a tutti amici maghi e draghi e benvenuti in un nuovo video. Sono qua a... Non sono da sola, l'avrete notato. Non siete genchi? Fatta che mi seguite con... Come fare? Voi sono sempre così solo che ho i soliti pezzi di tempo. Infatti questo lo tagli, ti conviene rilassarti un attimo e ripartire tranquilla. Poi al limite li metti tipo nei bloopers. Come hai fatto con quel... Dove sei cosa? Come hai fatto con il video parodia di... Quello l'ultimo che fa? Ti conviene fare così, mettere insieme un po' di bloopers e poi fare un video uno. Allora, noi non abbiamo nemmeno cominciato, se ho già piangito. No, no, deslai. Deslai. Con il senso. Eh, nulla. Aspetta, aspetta. Giusto, siamo in quattro oggi. Scusa, eh. Ci sono anche i nostri amici. Il mio si chiama Benjamino, ma già lo sapete. Il mio si chiama Gino. Gino. Riferimenti a fatti a persone è puramente casuale. Cioè il mio, il suo no, però il mio sì. Non sai che il mio figlio aveva fame e benji? Sì, anche il mio, Gino, l'ho sempre sognato. Gino! Bostati, prego. No, ma... Mi dispiace. No, lo dobbiamo tenere in mano, perché sennò... No, perché tipo se lo mettiamo sul muro non si vede. Scusa, se lo potevano mettere in all'esola? Oltre alle sedie volevi pure la... Secondo me tipo, o lo dobbiamo tenere così... No, vabbè, mi sono un po' le balle, dammi. Sì. Andate sul suo canale. Che ancora non ho fatto un video, però iniziate a andare. Vi lascio il link in info box. Quindi andateci, iscrivetevi perché, vi giuro, è peggio di me. E quindi non lo so, sotto nell'info box vi lascio il suo link. Poi magari forse troverete anche... Forse... Forse troverete... Un video sul suo canale. Forse... Forse che non lo so. Cioè io avevo qualcuno in mente, però poi arrivi lì... È la crash del momento. Venti. Ho detto ce l'ho... Forse è Jimmy Campbell Bauer. O Rita Ora. O Kylie Jenner. Troppi. Sono troppi. Ci avrei messo a Davide. E però... Ma vabbè... Io dico a un ragazzo con questo messaggio. Che dirò? Allora, la mia crash del momento è un ragazzo di Roma. Con questo messaggio. Ma pensa che l'amica sua mi segue su YouTube. E dico di Davide. Vabbè... A Roma ce ne sono tanti di ragazzi, quindi... Posso conf... Non è nome né niente, però... Hai appena detto Davide! Non vi dico nel nome né niente. Tagliamo, no? Ah, perfetto. Vabbè, comunque... E tipo... Quindi è lui la mia crash. Quindi tu dici Davide. Scusa! Mi dico la persona è meglio se la persona è già... Cioè... Allora... Ron Weasley! Ron Weasley. Rupert Grint, raga. Non posso non nominarvelo. Perché non mi hai evitato al matrimonio? Eh, abbiamo fatto una cosa prima. Tutto nel segreto. Non lo fa nemmeno. È talmente segreto che neanche lui lo sa. Robert Pattinson. Twilight. Cioè, madonna. Quando sale l'ipsi, spoglie. Il New Moon. Tipo... È bella che lo copre. Cosa ti copri? Cos'è il tuo fascino da... Da vampiro? Tipo, hai mai visto come Acqua per gli Elefanti? Il film suo? Che lui va a lavorare in un circo? No. Jacoby Jankowski si chiama. Oh, guarda. Apri. Con chi stai parlando? Ho detto. Sì, vabbè. Puoi anche farti i cazzi tuoi. Allora. La mia crespe non canta? Cioè, oddio. Questa è la nostra... La domanda fattidica. Quella super... Benji e Benji ha cantato. Non si è dimenticata. Ciao. Ciao, canto. Dicino... Tipo, mi metto così. Però sembro tipo... Donate la Versace quando si è rifatto il collo. Per Benji, come maschio, però ce la... Lascia stare Benjamino. Ti sei sputtanata, non so. Se vedi questo video sposami. Per favore. Per favore. Almeno seguimi su Twitter. Eh, basta. Cioè, raga. Cioè, già ti l'ha seguita su Twitter. Io sarei morta al pussassù. Io c'ero quasi. E dopo sei anni, vedi tu, se era ora. Se si svegliasse il sonno. Eh, se la tirano un po' stivi pettini, però... Già abbassano la cresta. Ormai. Mi ha beccato di fare. Facendo vedere le scarpe gli stessi pantaloni. Mi piace Justin. Non, è vero. E poi possiamo fare riuscita a quattro, eh? Sì. Secondo me, secondo me, Benji è pure fan di Justin. Facciamo fare un affitto. Ti è, cioè. Non lo so se è Justin, perché è un po'... Eh. Eh. Dovete capire. Vabbè, al massimo a Benji lo facciamo a Boccari per venire. Cioè, facciamo fare un affitto con Justin. Eh, devi così. Di portare la chitarra. Ci mettiamo davanti a un... Allora, cucinare Zemino. Secondo me conviene che blocchi e ci spostiamo appena appena più in là. Cioè, fra un po' arriviamo a sederci a fianco a quelli. Per l'ultimo. E se me ne cade un toffo in testa. Ma cosa? Tipo, no? Che culo. Il controllore non c'era, quindi non ho timbrato il biglietto. Che pazza. Questo non lo fa. No! Che tipo, è perfetta, è bellissima, è. Miley. Zoccoletta. Che sto tagliano. Che non lo capito le persone che la prendono per il culo. Secondo me. Sai cos'è che secondo me bisogna capirla. Sì. Cioè, lei è una ragazza più che altro molto esibizionista. Ma non in senso cattivo. La cosa che mi irrita è che per Rihanna tutto passa. Un'altra figa della Madonna. No, a me Rihanna non mi piace. A me è troppo. Mi sa sui coglioni. È bellissima. Poi io ti posto in fissa con l'ultima. Perché mai lì viene subito criticata. Puttana qua. E tipo la seguo da Anna Montana. Anch'io. E tipo sognavo di essere come lei un giorno. E poi ci siamo ridotte a fare video a Monserrat. Vabbè, per il momento. Con la gente che ci prende per parte. Mi sono sempre piaciute le persone più belle di me. Anche a me. Filanochia. Magnaccia. No, anche a me. Sei più che altro. Perché hanno la fisionomia del tipo di ragazzo ideale che piace a me. Capito? Quindi più delicata. L'altro giorno erano da scuola di mio fratello. Tutti i bambini. Questo la taglia. Perché sennò a te ti arrestano. Mettete dislike per Silvia Pedofila. Dislike. Tanto non avete sentito nulla. Poi le compagnie di mio fratello guardano i miei video. Quindi se dico che mi piace un compagno di classe di mio fratello. Tutti si gazzano. Cioè sembra che era fuori a nuova. Guarda le mie. Sembra che non me le lavo dal 48. Dal 42. No, nel 42 me le sono lavata. Di nuovo Davide. Perché è meno 20. Facciamo a me a te. Non mi piacciono molto quelli vecchi. No. Non è campo nostro questo. Preferiamo i minorenni. Sac, sac, sac. Vabbè che anche a Shanti le piacciono quelli più piccoli. Ma infatti ha ragione. Io la poggio in piedi. Ulca. La persona sta dicendo Ulca. Ho detto ma Ulca non è della Disney. Non lo so. Crash definitiva. Benji. Justin Bieber. Mattimonio a quattro. Facciamo insieme. Sì. Amo serrato. Speriamo vengano anche benjaggiate. Questa era bellissima. Speriamo che gli sposi si facciano vivi. Se no ci tocca sposarci con noi stesse. Tipo lei da sola. Non benjami ne gira. Depp nella Alice nel Paese delle Meraviglie. È vero che io sono innamorata di Johnny Depp. I migliori sono matti. Eh anche Johnny Depp la verità. Il figlio. Il figlio. Ciao figlio. Il figlio. Raga aspettate un attimo. No. Per me non mi muovete. Non stoppate. Aspetta. Intanto io poi non tal. Tipo. Non andato. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Se no. Non mi interessa. Però lasciatelo. Lasciatelo. Perché almeno facciamo i big money. Sotto nell'info box vi lascio il suo canale. Una bella. Vi mando un bacio. Un abbraccio. E nox. What does the fuck say? What the fuck said